Amore, ma lo sai che mancano appena 15 giorni a San Valentino? No, così tanto, 15 giorni? Oh, ma non finirà di tempo, non ce la faccio mica ad aspettare così tanto. È la sera degli innamorati, la nostra serata. Dove mi porti a cena? Vabbè dai, io comincio il prenoto del suo ristorante, base di pesce, ostiche e champagne. Ok, allora 29, il 5 dobbiamo dare dalla pediatra, il 6 andiamo a nuoto, iniziamo a nuoto. 14, 14 febbraio mi dice qualcosa, ma... Amore, ma te dice qualcosa il 14 febbraio? No. No? Sei sicura? Sì. Vabbè. Papà, quando ci ricorda di 5 febbraio, ma non si ricorda. La mamma, davvero? Non si ricorda cosa c'è il 14 febbraio? No. Davvero, amore? Sì. Oh, no, 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 no. Il 14 febbraio c'è Italia e Inghilterra in tv. Ah? Eh? Ce la vediamo insieme? Quest'anno mi devo proprio superare con il regalo. Adesso vediamo i regali più belli per San Valentino. Buon San Valentino, amore mio. Per te un braccialetto tutto tempestato di pietra preziosa. Auguri. Amore? Sì, amore. C'ho una sorpresa per te. No, davvero? Sì, dai. No. Anch'io avevo una sorpresa per te. Buon San Valentino. Buon San Valentino. Pijama. Pijama, amore. Grazie, grazie, grazie. Grazie, non doveri, non doveri. Guarda, io, sapendo di questa giornata particolare e speciale, ho voluto avere un occhio di riguardo per te. Uno sbattitore, manuale. Che bello! Cos'è, amore? Non immagini nemmeno che cos'è. È un prodotto stupendo, meraviglioso. Questo praticamente è utilità tutto, manuale. Anche un ferro a stiro. Uh, grazie, amore. Buon San Valentino. Buon San Valentino. Sei pronta, amore? Quasi, amore mio. Altri cinque minuti. Eccomi, amore. Oh, per fortuna. Se ne sembra un raggio di sole. Grazie, amore. Questo oggi. Dai, andiamo. Vieni, che la serata ci aspetta. Cameriere, champagne. Allora, hai capito tutto, mamma, eh? Mi raccomando, se c'è qualcosa, chiamaci, eh? Sì, poi, ma anche là, lo sai, c'è una confezione del bar al fiii cioccolato da liquor. Ma no! Ma no, mamma, se c'è qualcosa, chiamaci, eh? No, intanto siamo in pizzeria qua dietro, ma non siamo lontani. Va bene. Ciao, bimbi. Ciao, bimbi. Donnello, presto. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. E vabbè, è inutile che menti il muso. Se c'hanno la febbre, 37,2, comunque sarebbe. Quindi muoviti, dai, che andiamo in casa. Vabbè, la pizza la mangio un'altra volta. Ma c'è un scinghiale fuori da porta? È la mamma. È la mamma. È la mamma. È la mamma. Sì. 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 Sì.